Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi Come va? Spero tutto super, super, super bene Benvenuti o bentornati in un mio nuovo video Oggi sono qui per portare qualcosa di diverso che sul canale non ho mai portato e ho visto che altri ASMR artists lo hanno fatto Infatti voglio farvi conoscere un po' più me stesso, me stesso, me stesso Andrò per l'appunto ad eseguire un test della personalità Quindi andremo proprio a scoprire chi sono io realmente andando a rispondere a queste domande un po' personali per entrare ancora più in contatto con voi Voglio infatti che mi conosciate ancora meglio proprio perché questo test della personalità serve proprio a questo anche per andare a conoscere meglio la persona che lo fa ed anche per me stesso appunto per andare a capire chi sono io realmente Credo che possa venire fuori un video davvero molto carino Detto questo però è il caso di passare allo sponsor del video di oggi e chi sarà mai se non Tenorshare Ormai lo conosciamo benissimo sul canale Tenorshare come tutti noi sappiamo è un software che ci garantisce e ci fornisce tantissime soluzioni per lo smartphone Che cosa principalmente? Allora vediamo un po' qua Ad esempio recupero dati di iPhone La possibilità di trasferire i miei dati da iOS ad Android oppure viceversa lo sbloccare un dispositivo senza ricordare la password Recupero dati di Android, recupero dati di Windows e Mac Trasferimento, backup e ripristino di WhatsApp senza quindi perdere nulla Quindi siamo in un nuovo dispositivo Rivoiamo le vecchie chat su che usiamo Microphone, trasferimento, ripristino, WhatsApp o di backup Per riavere le nostre vecchie chat di cui eravamo follemente innamorati Quindi tante sono le soluzioni tra i prodotti Quelli erano i principali Abbiamo anche un sistema repair software Che ci quindi ripara il sistema operativo danneggiato In questo caso andremo a vedere quello per iOS Che fa a risolvere sino a 150 problemi interni al dispositivo E ora io lo andrò a testare Già l'ho scaricato E lo andrò a testare sul mio vecchio iPad Che è qui pronto per essere riparato in qualche modo Vediamo un po' cosa ci permetterà di fare questo bellissimo programma Che fa parte di tutto il software Tenorshare Eccoci qua con il programma Raybot Questo è il nome aperto Riparazione con i sistemi iOS Noi andiamo su inizia Andiamo con una riparazione leggera Quindi andiamo su riparazione standard Qui davanti Lo schermo e mi è entrerciato dalla fotocamera Andiamo su iPad Nel nostro caso modelli di iPad con tasto home Quindi qui prendiamo l'iPad Ho qui Il cavetto lightning collegato al pc Quindi lo attacchiamo alla presa di carica Ok Ha dato segni di vita Quindi lo sblocchiamo Vedete là già ce lo riconosce Quindi Andiamo su scarica Vediamo le informazioni che sta prendendo È davvero molto molto veloce Come potete notare E dopo qualche minuto Ecco che il pacchetto firmware è pronto Quindi andiamo con la riparazione standard Ora Vediamo un po' È in corso Vedete la percentuale Che comunque sia anche questa Corre molto veloce Diciamo che questo software ci viene proprio incontro Senza dover andare da Un tecnico proprio specificato nel campo Ma facendo tutto da casa Pagando questi pacchetti ovviamente Da prezzi davvero accessibili E riuscendo a risolvere davvero tante tante problematiche Che possono avere i nostri smartphone, iPad o computer Aspettiamo che la riparazione finisca E poi vi aggiorno Bene Dopo una decina di minuti Ecco che la riparazione standard è stata completata Ora Ci dice appunto di inserire e accendere l'iPad Vedete Premi il tasto home Per aggiornare ci dice Quindi noi lo premiamo Inseriamo il codice E quindi ecco che si riaccende Ed è stato riparato Ed ecco che c'è comparsa la schermata Aggiornamento completato È stato completato correttamente Ancora pochi passaggi avrei finito Andiamo su Continua Tiene aggiornato il tuo iPad Continua Tempo di utilizzo Continua tutti questi vari aggiornamenti Quindi ci è riuscito anche ad aggiornarlo Alla nuova versione Che dire questo software Raypot È davvero miracoloso Quindi se anche a voi A casa avete un vecchio dispositivo E volete cambiarlo Perché appunto Fa rilento Dei problemi Provate a scaricare Raypot Ovviamente trovate il link Nella descrizione Vedete un po' Se riuscite ad ovviarli Senza dover andare a spendere Altre cifre sul nuovo dispositivo Ciò aiuterà anche l'ambiente E risparmirete comunque soldi Senza andare Da dei professionisti Ovviamente se la cosa è più complicata Sarete costretti ad andarci Ma Raypot Del buon Tenorshare Fa davvero miracoli Link in descrizione Ok Detto ciò Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Di iscrivervi al canale Se non lo avete ancora fatto E di andare Mi assicuro su Instagram Per non perdervi Nessun aggiornamento Link in descrizione Perfetto Non si può che Quindi cominciare Con il test Mi andrò ad accompagnare Con questa saponetta Qui al sale Molto molto particolare Perché questo suono Scopiettante Mi fa davvero impazzire E spero piaccia Anche a voi Accompagnate Con la mia voce Sussurrata Ok Mi sposto di là Così faccio apparire Quella schermata Ecco Qui Il test Della personalità Che è Radis Ci dice Che ci vogliono Meno di 12 minuti Molto bene Devo rispondere Onestamente Anche se non mi piace La risposta Lo farò per voi E Cerca Di non lasciare Risposte neutrali Ok Non lo farò Mi fido Andiamo La prima Poi è impostato Anche molto Molto bene Devo dire Trovi difficile Presentarti Ad altre persone No Non lo trovo In alcuni casi Quindi andiamo a mettere La penultima Spesso Sai così Sovrappensire Da ignorare Dimenticare L'ambiente circostante Può capitare Non molto spesso Però può capitare Quindi Andiamo sulla prova Però ci teniamo Un po' distanti Cerchi di rispondere Alle mail Il prima possibile E non sapporti Che la cartella Tipo se ne arrivo E sia disordinata È vero È vero Questa è molto È facile Mantenere la calma La concentrazione Anche sotto pressione Sì Questo Ne vado fiero Di questa cosa Di solito Non inizi Le conversazioni No Invece qui Disapprovo Non tantissimo Perché può capitare Però Solo più sul Disapprovare Poi provate a farlo Anche voi Questo test Vi lascerò Il link In descrizione Raramente Fai qualcosa Solo per pura Curiosità Non è vero Questo disapprovo Perché per la curiosità Faccio davvero molto Ti senti superiore Alle altre persone No Disapprovo Non mi sento Assolutamente superiore Per essere organizzati È più importante Di essere flessibili E non è che sia potuta Questa organizzazione Sinceramente Mettiamo un po' Per il disapprovo Di solito Hai un'elevata motivazione E molta energia Questo sì Questo sì Approvo Fortemente Per definire Un dibattito È meno importante Del fare in modo Che nessuno Si arrabbi È meno importante Sì è meno importante Approvo Approvo Ti senti spesso Come se dovessi Giustificarti Con gli altri No Disapprovo Cioè Come se dovessi Giustificarmi Con gli altri Non è che mi deve Sempre giustificare Non disapprovo totalmente Però Siamo lì La tua casa Il tuo ambiente di lavoro Sono piuttosto ordinati Sì Assolutamente Non metà provissimo Perché alcune cose Non è che siano Molto Ordinate Però Siamo su quella strada Non ti dispiace Essere al centro Dell'attenzione No Non mi dispiace Detto sinceramente Approvo Ti considero una persona Più pratica Che creativa No Disapprovo Sono più creativa Raramente le persone Ti fanno arrabbiare È vero Proprio È raro 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 Che mi arrabbio Raro I tuoi piani di viaggio Sono di solito ben pensati Ovvio Spesso trovi difficile Capire i sentimenti Degli altri E questo è vero Magari alcune volte Riesco Però Sono verso L'approvazione Il tumore Può cambiare rapidamente No Rapidamente di certo No Molto molto carino Fare questi test Devo dire la verità In una discussione La verità Dovrebbe essere più importante Della suscettibilità Delle persone È vero Approvo fortemente Ti preoccupi veramente Di come le tue azioni Abbiano un effetto Sugli altri No Devo dire che Quando vado a fare qualcosa Io ci rifletto Molto Quindi Disapprovo Perché davvero Quando vado a fare delle azioni Soprattutto quando so Che possono andare a incidere Negativamente Su qualcosa Ci rifletto bene Non sono impulsivo Diciamo Il tuo stile lavorativo Si avvicina maggiormente Da picchi di energia È casuale Che ha un approccio Metodico Organizzato Non disapprovo Quando lavoro Preferisco essere Ben organizzato In alcuni casi Magari qualche picco Di Energia Ci può stare Quindi non disapprovo Fortemente Però siamo Su quella strada Sei spesso Impidioso degli altri Impidioso degli altri Mai Un libro O un videogioco interessante È spesso meglio Di un evento sociale Disapprovo Io ragazzi Dovete capire Allora I libri sono importanti Per me Ma di certo Non più di un evento sociale E i videogiochi Io li ho abbandonati Da un bel po' Infatti Vedevo riportare Un gameplay Che vi giuro Porterò Prima o poi Nuovamente Però Al momento È abbastanza difficile Essere in grado Sni Può capitare Può capitare Non puoi dare risposte neutre Quindi il centro Non lo picco Però Diciamo che può capitare Quale volte Mentre Magari Mentre sto in montagna Quando vado in montagna Ogni anno Sapete Quest'anno in montagna Non ci andrò Perché è stato in live Sa che in questo momento Mentre state guardando Questo video Io sarò a New York E aspettatevi Qualche video a tema Però può capitare Che Quando andavo in natura Con mio padre in montagna Di perdermi Qualche pensiero Ci può stare Se qualcuno Non risponde Alle tue modi In modo rapido Inizia a preoccuparti Di aver detto Qualcosa di sbagliato Lo sapete Che questo può capitare Allora soprattutto Con le aziende Può capitare Di preoccuparmi Però Non di aver detto Qualcosa di sbagliato Quindi Vado sulla disapprovazione Non troppa però Come genitore Preferisci che tuo figlio Cresca gentile Piuttosto che intelligente Io voglio Che cresca gentile Semmai avrò un figlio Non lasci che altre persone Influenzino Le tue azioni Approvo Alcune volte Devo dire la verità Può essere capitato Quindi Mettiamo l'approvazione Non fondissima I tuoi sogni Che tendono a Incentrarsi Sul mondo reale Sui suoi avvenimenti Sì I miei sogni sono Viaggiare Quindi il mondo reale Diciamo no Successivo Andiamo alla metà Del completamento Del test Ti basta poco tempo Per iniziare a prendere parte Alle attività sociali Nel tuo nuovo posto di lavoro Guardate Io ci ho messo davvero poco A prendere piccolo In uno spazio Di società nuovo Come per esempio In Spagna Non conoscevo nessuno Devo dire la verità Mi sono integrato benissimo Quindi lo posso Accostare al mondo del lavoro Soprattutto quando Anche l'anno scorso Ho fatto lo stage In un'azienda Mi sono integrato Molto velocemente In qualche giorno Ero già dentro Il mood lavorativo E insieme anche agli altri operai Subito ho fatto amicizia Hai più lo spirito Da improvvisatore naturale Che da tento organizzatore Sapete che Molti video Io sì Li studio Prima Ho le idee scritte Però Sono la maggior parte improvvisate Perché mi piace Proprio quando mi vengono Queste idee Tipo questa Del test Della personalità È un'idea che mi è venuta A cui ci ho detto Facciamo un test Su cosa però potremmo farlo E ho trovato appunto Questa della personalità L'ho detto Vai facciamolo Ho preparato tutto E quindi Molto spesso ci vado Sull'improvvisazione Molto spesso Alcune volte sono organizzato Però sono più verso La improvvisazione Molto spesso Le tue mazzeretti Controllano più di quanto Tu controlli loro No No Non mi controllano Ti piacciono gli eventi sociali In cui ci si deve mascherare O sono previste attività Come i giochi di loro Così mi piacciono Mascherare adesso Mascherare giusto a carnevale Però Diciamo Disitai Spero Che vi piaccia Questo wishberry Che mettere risponde alle domande Spesso trascorre del tempo Esplorare idee Irrealistiche E inattuabili Ma affascinanti Eh questo è vero Questo è davvero vero Preferisci improvvisare Piuttosto che lavorare Un piano dettagliato Eh Sono sempre Improvvisazione Verso l'improvvisazione Purtroppo è questo Il mio problemino Però Pieni dettagliati Alcune volte Li faccio Quindi non sono verso Proprio l'approvazione Forte Però ecco È più l'improvvisazione Molto spesso Per altre cose Sono ben organizzato Eh Quindi Questa qua Delle idee Realistiche Inattuabili Magari per il mio futuro Alcune cose Che ho in mente Tipo roller coaster E non è che sarà Una cosa molto semplice Sono una persona Relativamente calma E riservata Sì approvo Non sono già riservato Dal punto di vista Delle mie emozioni Sì molto Se avessi una tua azienda Troveressi molto In difficile Licenzere di dipendenti Leali Ma poco Progettivi Forse sì Eh Forse sì Forse avrei Non approvatissimo Però Spesso rifletti Sulle ragioni Dell'esistenza umana Sni Sni Può capitare Sapete Quando si è sovra pensiero Così dici Ma da dove è nato tutto Non so se capita Anca a voi Quando si tratta Di prendere decisioni Importanti La logica Di solito Più importante E dei sentimenti Approvazionina Alcune volte I sentimenti anche Contano Ma tenere aperte Diverse opzioni Più importante Che avere un elenco Di cose da fare È importante Ave avere un elenco Di cose da fare Secondo me Un po' più importante Se un tuo amico Interessi Qualcosa Più probabilmente Che tu Gli offra Supporto emotivo Piuttosto che Suggerigli Dei modi Per affrontare Il problema Allora Può capitare È capitato E offra Supporto emotivo Più che Suggerigli Dei modi Effettivamente Vado più Sull'approccio Appunto Emotivo Come supporto Quindi Approviamo Più o meno Raramente Ti senti Una persona Insicura Alcune volte Può succedere Insicurezza Però In campo Vediamo un'approvazione Così perché Poi l'insicurezza Pari in base Al campo Non è difficoltà E lavorare E scadenziare Personale E rispettarlo No Ho molta difficoltà Questo devo dire Che ho molta difficoltà Cioè no Sì Sì Ho difficoltà Quando si tratta Di lavorare di gruppo Avete ragione Più importante Che essere collaborativi No no Voglio essere collaborativo Ritieni che Quando facciamo anche I lavori in gruppo In classe È meglio essere collaborativi Ritieni che Le opinioni di tutti Deppano essere rispettate Indipendentemente Dal fatto che Siano meno supportate Dai fatti Sì no Devono essere rispettate Però poi Ci sono vari casi Senti che I tuoi livelli di energia Sono maggiori Dopo aver trascorso Del tempo Con un gruppo di persone Vero Questo è verissimo Non so se capita anche a voi Ma quando sto in una serata Che mi diverto tanto Ho proprio Livelli di energia forti È vero questa Perdi spesso le cose Sì Questo sì Questo sì Approvo È il mio problema Purtroppo Ti considero una persona Molto stabile Emotivamente Sni Sni Cioè Emotivamente In che senso Io sono sempre allegro Sempre felice Però dal punto di vista Emotivo sentimentale Magari non sono molto stabile Quindi Vediamo un'approvazione A metà La tua mente È sempre piena di idee Progetti inesplorati Vero Sì Madonna Che spettacolo Queste domande Però Non ti difedi Che sei una persona Sognatrice Disapprovo Mi sento sognatrice Molto Magari ogni tanto Sogno di stare proprio A lavorare Per ciò che vorrò fare Da grande Sogno Delle relazioni Anche alcune volte Che spero si afferino E poi ovviamente Vabbè Può capitare Che non si afferino E quindi sogno Di stare con una persona Sogno davvero Tantissimi Sogno pure Di stare in America California Poi America Adesso il sogno Si è avverato Di New York America magari Perché divertimi Di sogno Di essere Super famoso Molto spesso Proprio Mi immedesimo Proprio In questi fatti Che mi piacerebbero Un po' Tu come anche Vincerà la lotteria Sì Ma può capitare Anche questo Di solito Trovi difficile Rilassarti Quando stai parlando Davanti a molte persone E rilassarmi Trovo difficile Dipende in che senso Magari Andremo verso L'approvazione Perché rilassarsi Cioè mentalmente Sono rilassato Però dipende Che tipo di rilassamento In linea di massima Ti basi più Sulla tua esperienza Che sulla tua immaginazione Andiamo sulla Perso La disapprovazione Perché comunque Per la mia immaginazione Ci ponto tanto Ti preoccupi troppo Di quello che pensano Gli altri Di quello che pensano Gli altri Sinceramente Non mi preoccupo In alcuni casi Può capitare Quindi metto Una disapprovazione Non troppo potente Andiamo Se la stanza È piena Stai vicino E muro Evitando il centro Ah dipende C'è gente Tanta gente Che conosco E sta al centro Io sto al centro Non è che mi metto Ai muri Quindi se è piena Sicuramente Noi comunque Al centro ci andiamo Però Stai vicino ai muri Può capitare Molto più spesso È la tendenza A Non perché Proprio mi vergogni Solo che O per cose del genere Ma Per esempio Se non conosco nessuno Siamo in pochi Siamo verso il muro Appunto Io sto verso il muro Non è che vado proprio A cercare l'attenzione Hai la tendenza A procrastinare Fino a quando Non c'è abbastanza tempo Per fare tutto Fino a quando Non c'è abbastanza tempo Per fare tutto Io voglio il tempo Però Faccio sempre Anche se non c'è tempo Io Io vado A fare le cose Quindi andiamo Verso una disapprovazione Provi molta ansia Nelle situazioni stressanti Può capitare Può capitare Molto spesso Proprio Per certe situazioni L'ansia mi viene Ritieni che sia più gratificante Essere apprezzati dagli altri Piuttosto che essere potenti No Io Mi piace un botto Che Io sia apprezzata dagli altri Mi piace davvero tanto Hai sempre provato interesse Per cose Non convenzionali Ambigui Ad esempio Libri Opre, tarte o film Vero Vero Io per libri tantissimo Per film E mi piacerebbe anche girarli D'altronde Per rispetto All'iniziativa Nelle situazioni sociali Abbastanza Abbastanza Diamo un'approvazione Non fortissima però Abbiamo finito signori Era l'ultimo 90% Pensavo Eh ma invece no Siamo arrivati al 100% Il tuo tipo Di E personalità E Protagonista Ma come protagonista Mente 78% Estroverso Energia Intuitivo Per il 73% Realistico Per il 27% Natura Focalizzato sui principi Focalizzato sulla logica E con il 75% In natura Tattica 57% Focalizzato sulla pianificazione Focalizzato sulla ricerca Identità Determinato Prudente Sono determinato Mi piace questa cosa Vediamo un po' che cosa vuol dire Allora Personalità protagonista Tutto ciò che fai Andiamo a leggere velocemente Perché sennò ci vuole un po' troppo Vedo che appunto Sono miliardi di cose E tutto ciò che fai Proprio adesso Si propaga all'esterno E interessa a tutti Il tuo atteggiamento Può far risplendere il cuore O trasmettere ansia Il tuo respiro Può irradiare amore O interpidire la stanza Quando il prossimo Il tuo sguardo Può risvegliare i giochi Le tue parole Possono ispirare Libertà Ogni tua azione Può aprire la mente Il cuore Che spettacolo questa cosa Le protagoniste Sono leader naturali Pieni di passione E carisma Formando circa Il 2% Della popolazione Queste personalità Sono spesso politici Allenatori Insegnanti Che si rivolgono agli altri Spirandoli A conseguire le proprie obiettive Ed agire bene Nel mondo Con un'innata confidenza Che genera Influenza Le protagoniste Sono molto orgogliose E felici Di guidare gli altri A lavorare insieme Per migliorare Se stessi E la loro comunità Mi piace molto Mi ci ritrovo Lo sapete che mi ci ritrovo Davvero tanto Davvero Fermi Sostenitori Delle persone Le persone Sono attrate Dalle forti personalità I protagonisti In radio Autenticità Interesse Altruismo Si alzano A parlare Senza timore Sendo la sensazione Che qualcosa Debe essere detta Le persone Con il tipo Di personalità Del protagonista Trovano natura Nei semplici Comunicare con gli altri Soprattutto in prima persona La loro natura È penetrante Consente a loro Di raggiungere Ogni metodo Attraverso Fatti Logiche La gruta emozione I protagonisti Vedono con facilità Le motivazioni Delle persone Gli eventi Apparentemente Scollicati Sono in grado Di mettere insieme Queste idee Di comunicarle Come obiettivo Comune Con un'elucanza Anche a dir Un po' affascinante Protagonista Non per gli altri Autentico Quasi eccessivo Sono inoltre Soggetti Un altro Terranello Ha enormi capacità Di riflessione Analisti Di propri sentimenti Ma se vengono Convolte eccessivamente In una situazione Impietosa Di un'altra persona Possono sviluppare Una sorta di ipocondria emotiva Speccando i problemi Delle persone Cercando di ritrovare In se stessi Qualcosa Che non è sbagliato È verissimo Se queste persone Ad aggiungono Al punto in cui Sono attraverso Le limitazioni Vissute da qualcuno Ciò può stacolare La loro capacità Di vedere Oltre il dilemma D'essere di aiuto Se ciò accade Importante Che protagonisti Si tirino indietro E si affalcano Dell'autoriflessione Per la distingua Tra ciò che Realmente sentono E ciò che È una questione Separata E che occorre Osservare Da un'altra prospettiva È vero Vero Non ci deve scoraggiare Dal supportare Una causa Che ritiene essere giusta Sono persone autentiche Premurose Che non parlano A vuoto E nulla Li rende più felici Di essere alla guida Un ente motivante Il proprio team Punti di forza Vedete quante cose Romantic relationships Vediamo un po' queste Questa è molto vero Io mi innamoro proprio Dei caratteri Delle persone Non tanto appunto Comunque sia Delle 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 Steriorità Diciamo Diciamo Ma appaiono Quindi della bellezza Ma davvero Io quando mi provo bene Con una persona È lì che mi innamoro Quando proprio Mi ci ritrovo È lì che mi innamoro È moving beyond Dating game Dreaming Vabbè Qui sono tantissime cose In inglese Che ci vorrebbe tanto Perché sono termini Abbastanza anche E diciamo Non molto semplici Perché sono temi Forti in inglese Con delle terminologie Che non conosco molto bene Sì, è vero Per giusti Intercepti E complessi Di altri protagonisti Di tipo Di tipo Di tipo Di tipo Di tipo Di tipo È un po' Creepy Entendolo Right now Includi La determinazione E l'abilità In visione Un miglior futuro Sì, tutto questo è vero Questo test della personalità È stato davvero Fighissimo Ve lo consiglio Tanto 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 Perché Adesso non so perché Si è messo in inglese Devo dirlo Sinceramente Però davvero Mi ci sono ritrovato Molto Quindi complimenti A chi ho fatto Questo test Adesso lo chiudiamo È davvero Stupendo Mi è piaciuto tantissimo Farmi conoscere meglio A voi rispondendo A queste domande Sinceramente Quindi Spero Che Appunto Vi abbia fatto Piacere Che io Abbia voluto Scegliere Di farmi conoscere Al meglio E Ditemi se anche voi Vorrete andare a fare Questo test Come vi ho detto Vi lascio È il link Nella descrizione Ditemi anche In quali domande Vi ritrovevate di più In quali di meno Spizzarritevi nei commenti Perché possiamo aprire Un bel dibattito Per quanto riguarda Proprio le personalità Sono un protagonista E vedete Faccio cadere Le cose Giustamente Sembrava un effetto speciale Protagonista E casano E voglio dire Che mori sono Vabbè Li rimetto su Un secondo Bene Dal protagonista È tutto Seguitemi Perché sarò Il leader Che vi farà Sempre Rilassare E Detto questo Non posso Far altro Che Augurarvi Una Tranquilla Gioiosa E serena Notte 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 Grazie.